Ma io riprendo proprio lo stesso verbo che ha utilizzato Papa Francesco e perché anche nel testo che ho proposto scelgo anche la concretezza di una figura evangelica quella di Matteo ce l'abbiamo pure qua, il Caravaggio, la chiamata di Matteo perché è proprio una figura emblematica nel lasciarsi toccare la conversione noi a volte la immaginiamo come uno sforzo personale sono io che cambio la mia vita, mi oriento diversamente che divento più bravo Ma ricordiamoci che anche per il figlio della parabola prima di una decisione personale c'è la decisione del padre di non aver mai abbandonato quel figlio e di aspettarlo, quell'amore che si era radicato proprio nel cuore di questo giovane e che lo ha mosso a tornare a casa Così anche per Matteo quell'esperienza iniziale dell'essere stato chiamato nonostante la sua vita tra i peccatori peggiori pubblicani e pian piano nel vivere accanto al Signore lasciarsi toccare da Lui nel lasciarsi cambiare la vita ecco questa è la conversione lasciare ogni giorno Papa Francesco dice anche spesso lasciarsi guardare perché il Signore usa questo verbo lui spagnolo ci primea cioè ci precede e allora la conversione è lasciarsi toccare nella certezza che il Signore mi precede e mi indica la strada quindi lo sforzo maggiore è il suo e poi è chiaro che c'è la mia adesione e il mio desiderio di cercare di incontrarlo di lasciarsi incontrare da Lui e allora è questa relazione d'incontro che è la conversione Grazie Grazie Grazie.